bella a tutti ragazzi sono da virgo bentornati su gameplay channel e su turmoil dei t-zone con la modalità estrema allora ragazzi purtroppo ho avuto un problema perché mi si è sminchiata la registrazione che avevo fatto di un gameplay in cui avevo comprato come vedete il 5 per cento di azioni a una cifra abnorme una roba tipo 95.000 mi sembra che avevo speso però avevo appunto acquistato il 5 per cento di azioni avevo fatto un livello dove sinceramente era andata malissimo ho fatto tipo 25.000 avevo fatto pochissimo perché era un terreno con pochissimo petrolio in più avevo fatto parecchi errori anche io perché un po di giorni in realtà che non giocavo più a turmoil però purtroppo ho avuto un problema con il file della registrazione e niente mi si è corrotto il file quindi non ve lo riesco a mettere abbiate pazienza ma non è un problema che dipende da me insomma quindi mi spiace ma quel gameplay purtroppo non sono riuscito a caricarvelo comunque noi andiamo avanti io avevo già preso qua al saloon non c'erano offerte sui prezzi purtroppo c'era solo uno sconto del 50 per cento sulla multe e il gioco delle carte che nel gameplay appunto che mi è saltato purtroppo avevo vinto almeno quella volta lì ero riuscito a vincerlo però vabbè poi per il resto avevo preso tutto quindi andiamo a farci a questo punto l'asta per i terrenozzi ecco io mi ero messo qua mi ero messo sì sono diventato russo mi ero messo qua e vedete che ero vicino al 60 nella speranza che ci fosse un bel po di petrolio e invece avevo preso un bel 23 quindi avevo trovato veramente uno schifo assurdo quindi quindi direi a questo punto di andare magari qua sotto e infatti voglio andarci tutti no ci vorrei andare io cortesemente grazie non rompete le palle non è ci vado io ok perfetto allora speriamo che invece questa volta mi vada un attimino meglio andiamo a scavare che dio ce la mandi buona come sempre ragazzi allora la c'è già un tesoro perfetto quindi questo ce lo andiamo me lo vai a prendere grazie è molto gentile benissimo allora quel prezzo è già un po alto perfetto ho trovato una punta di lancia credo che sia sta roba qua penso tu hai trovato qua va bene allora iniziamo con una trivella così vediamo che cosa troviamo qua sotto speriamo ragazzi speriamo di avere un po di fortuna perché lo scorso gameplay appunto quello che purtroppo non sono riuscito a mettervi era andato veramente veramente da schifo perché c'era pochissimo petroglio ed è stato veramente veramente incasinato allora iniziamo a mettere comunque qualche talpina così a random giusto per vedere se magari troviamo qualcosa interessante qua c'è già del petroglio che io mi potrei prendere eventualmente così perfetto vai vediamo un attimino nella speranza che questa volta vada un po meglio mettiamo già un altro rabdo qua ho trovato già del gas e qua c'è già dell'altro petrolio va bene va bene quindi adesso lui mi andrà a scoprire questa sicuro sicuro come loro però io ci andrei con una trivella a parte lì sinceramente qua c'è del gas qua credo che sia altro gas penso no lui mi ha trovato qua forse altro petrolio vediamo un attimo che ci ho mandato una talpina vediamo se ok qua è petrolio perfetto ce la prendiamo così ottimo e poi ci andiamo a prendere magari questa ma come detto lo vorrei fare con una trivella a parte se magari vendo dove il prezzo è un po più alto forse sarebbe anche meglio va bene allora vai di rabdo a cacchio sono un pirla potevo aspettare perché se no adesso questo mi scoprirà questa pozza qua di petrolio che in realtà già avevo visto allora vediamo un attimo se troviamo anche un po' di magma purtroppo il casino è che con i prezzi cioè non avendo trovato offerte sui prezzi purtroppo è un po' un casino perché non riesco a fare assolutamente nulla ecco lui mi trova questa ovviamente mi ha trovato questa va bene dai ne mettiamo un altro vediamo se riusciamo a trovare qualcos'altro vediamo dove il magma perché se no questa me la potrei prendere anche così eventualmente tanto c'è poi lo spazio al massimo ah no però tu l'hai trovato anche qua sotto allora andiamo a vedere cosa c'è qua sotto perché io comunque questa così me la potrei anche prendere il problema è che adesso il prezzo è bassissimo e spero che aumenti ok quella è là perfetto con questa ci riesco a andare e appena mi vendono qualcosa magari riesco anche a andarci ok e ce l'andiamo a prendere il magma per adesso non l'ho ancora trovato ma neanche a morire e quindi è un bel problema va bene va bene dai andate a vendere magari di là che è un po' più alto e va bene dove cacchio sarà il magma bella domanda veramente bella domanda chi lo sa chi lo sa allora intanto ci andiamo a prendere questa dai così almeno il petrolio quello visibile diciamo l'ho preso tutto poi in base a dove sarà il magma vediamo un attimino di capire cosa cosa fare insomma vai perfetto questa l'abbiamo presa qua magari facciamo già l'upgrade a due così le tiriamo su un attimino prima perché qua di gas in realtà ne ho trovata solo una se trovassi del magma magari qua sotto non è che mi farebbe schifo effettivamente non mi farebbe proprio schifo per nulla vai poi devo fare l'upgrade ai cavalli e devo fare un bel po' di roba come sempre come sempre ragazzi allora fammi l'upgrade qua così questa la tiriamo su subito e via ok magma neanche l'ombra proprio neanche a parlarne magma ma rimortaci tua allora iniziamo a mettere un silos intanto ok e mettimi anche altri due cavalli così tre vendono e ok il rabdo non ha più trovato nulla per cui è tutto qua quello che abbiamo un bello schifo anche stavolta mamma mia ragazzi che cacchio di gameplay che sto facendo sto giro porca di quella miseria vai intanto upgradeiamo un po' di tubi magma neanche a parlarne proviamo ad andare qua io sto mettendo giù talpe a destra manca ma non trovo un cacchio ragazzi non trovo veramente un cacchio devo fare anche l'upgrade vedi con due di là che il prezzo fa schifo vediamo di mettere almeno via qualcosa intanto perché sennò qua ma è il magma è possibile averlo in questa cacchio di mappa cortesemente cioè dov'è che devo andarlo a trovare sto cacchio di magma dai sto spendendo un fottio di talpe ragazzi non c'è magma ma dove cacchio sta il magma anche perché se andiamo avanti ancora un po' non riesco neanche ad upgradeare il gas perché ora che trovo il magma faccio tutti i vari collegamenti e non c'è ragazzi ma c'è possibile che c'è una mappa senza magma è possibile questa cosa io non credo magari sarà qua sto buttando talpe a destra manca veramente qua c'è tutta roccia qua c'è una bella roba di roccia enorme a meno che qua c'è dell'altro gas ok questo l'ho trovato ma di magma neanche l'ombra neanche qua c'è magma ormai siamo già giugno non è che posso neanche impiegare una vita qua a recuperare il tutto fammi l'upgrade anche qua e poi vediamo di farlo anche qua va cioè sì ho trovato un po' di gas ragazzi ma se non ho il magma è inutile anche che lo vendo sto gas perché non ci faccio una ceppa di nulla sono due sputi di gas ma è il bello che c'ho anche le talpe upgradeate per trovare il magma ma non mi stanno trovando nulla ragazzi e ho capito io cosa faccio qua senza il magma cioè non posso non posso fare davvero nulla no vabbè ma io non ci voglio credere ma dove c'è qua sotto il magma ma sei serio ma seriamente qua sotto il magma e vabbè ma sei un bastardo è però cioè sei veramente veramente un bastardo tarmoil cioè lasciatelo dire sei veramente veramente un gran bastardo fatto che siamo già luglio io ci posso anche andare a prendermelo almeno upgradeare questa perché ora che arrivo qua non so neanche quanto quanto me ne possa valer la pena eh almeno sì vabbè ma guardate quanto devo spendere ragazzi guardate quanto devo spendere eh iniziamo ad andarcela a prendere che devo fare cioè sono rimasto a zero ragazzi sono rimasto a zero non c'ho più i soldi per fare nulla eh anche chiedere un prestito io non lo so quanto ne valga la pena perché a sto punto non so davvero non so davvero quanto me ne possa valer la pena ragazzi eh andate a vendere di là cioè c'è pure un prezzo infame tra l'altro quindi cioè sto anche vendendo a un prezzo bassissimo e siamo pure già ad agosto oltretutto e Rabdo tra l'altro non ha più trovato nulla no? io ne metto un altro per sicurezza ma mi pare che non abbia più trovato nulla io mo devo andare qua e devo pure chiuderla sta cacchio di cosa cioè guardate quanto sto spendendo per che cosa poi alla fine boh chi lo sa 3.25 ma devo vendere ancora se no non ok vai allora eh iniziamo a gridare anche a 3 perché se no non riesco neanche a tirare su quello che ho quel poco che ho non riesco neanche a tirarlo su vendi un attimo con 3 intanto ok vendi un attimo con 3 anzi vendi anche con 4 così poi eh veloci ragazzi eh lo so devo fare l'upgrade ai cavalli adesso glielo faccio appena riesco a mettere via qualcosa di soldi eh ok almeno questa la stiamo ingrandendo e sarà poco sarà tanto ma almeno questa la stiamo ingrandendo qua chiudimela già perché tanto questa non mi serve vai adesso gli faccio l'upgrade eh un attimino che devo intanto eh vedere di recuperare qualcosa ok va bene dai messi silos adesso accumuliamo per fare l'upgrade eh vai 95 94 ok vai upgrade fatto vendi solo con 2 e eh mo cerchiamo di mettere via più che altro allora qua fammi l'upgrade anche qua a 3 e poi lo facciamo anche a questa perché quantomeno ragazzi l'upgrade glielo faccio perché siamo già a ottobre se no non riesco neanche a tirare su quel poco che ho vai così almeno dovrei anche riuscire a fare un attimino più in fretta ok vai qua un altro silos e ok eh vediamo se riesco a fargli l'upgrade alla velocità così questo l'abbiamo fatto va bene eh qua è tutto upgradeato qua pure qua pure ok però anche di riuscire a prendere tutto ragazzi perché siamo già a ottobre ma non ce la faccio neanche a prendere tutto eh ragazzi già ci avevo poco non ce la faccio neanche a prendere tutto porca di quella miseria e ho sprecato un sacco di tempo nella speranza di cercare di trovare gas e quant'altro e ehm siamo già novembre siamo già novembre ragazzi ragazzi con un prezzo schifosissimo peraltro ehm non so neanche se ce la faccio a chi forse sì forse riesco a tirare su tutto ma gas ne ho comunque poco ehm vai apri 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 inizia iniziamo a vendere qua ragazzi se no vai e e vendete così per intanto vendete così perché se no non so neanche se ce la faccio a vendere tutto vai 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 tutti a vendere vai vai se no non vendiamo neanche tutto qua ragazzi almeno quello che ho nei silos eh eh sì ok no ho tirato su tutto e ho venduto tutto al pelo mamma mia al pelo 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 sono riuscito a vendere tutto porca miseria quanto me la sono rischiata ehm ho tirato anche su appunto tutto il petrolio l'ho venduto tutto e quello che ho potuto sfruttare ragazzi di gas l'ho sfruttato ma il casino è che il magma stavolta era veramente veramente in profondità ho impiegato un sacco di tempo per trovarlo e quindi poi il tempo per riuscire a ehm diciamo upgradeare il tutto è stato veramente basso e per cui quello che avevo io ho cercato di fare penso che eh se più di così non è che avrei potuto fare molto vedo che anche gli altri comunque più o meno sono rimasti eh molto molto bassi anche perché stiamo andando verso la fine diciamo così di questo eh bioma io in realtà eh avrei quasi 500 mila se non avessi speso appunto 90 e passa mila in azioni però del resto ragazzi le devo comprare cioè per forza di cose le devo comprare qua c'è il gioco delle carte proviamo con più bassa proviamo ancora più bassa e ti pareva che stavolta non lo vincevo l'immortaci tua eh va bene allora sotto terra cosa abbiamo? qua abbiamo in realtà trovato tutto perfetto abbiamo tre pepite tre punte di lancia tre vasi eh tre argento va bene quindi ci dovrebbe dire poi nel nuovo bioma il terreno con tanto petrolio vediamo già le azioni e qua anche qua mi faranno spendere io lo so già un fottio di soldi perché lo so già che inizieranno a rompere le palle in una maniera assurda anche perché questi hanno un botto di soldi hanno veramente tanti soldi e se iniziano a sparare loro ecco qua che attaccano io provo con 55.000 fatto che stiamo spendendo veramente tanto ragazzi dai dimmi che non rompete le no dai e piantala di rompere le palle 63.000 dai porca misera eh vabbè 88.000 eh ci provo ragazzi perché le devo prendere stazioni se no mi battono gli altri e non ce la facciamo dai oh meno male meno male alla fine sono riuscito a spendere un pelino meno rispetto alle altre perché come vi ho detto le altre le avevo pagate 96 98 insomma quasi 100.000 queste 88 qualcosina abbiamo risparmiato abbiamo sì il 10% di azioni quindi siamo in testa con le azioni ma abbiamo anche eh solo tra virgolette 286.000 ehm il problema è che vedete che questi con le azioni ci vanno giù pesante calcolate che sto Jim Bob ha 850.000 quindi cioè può permettersi veramente di pagarle un fottio un fottio di soldi eh quindi sarà dura ragazzi sarà veramente dura ma come sapete io naturalmente ci provo quindi gente io vi invito a lasciare un bel po' di like per far proseguire al meglio questa serie condividete commentate iscrivete al canale se non siete iscritti seguitemi anche su Instagram lo trovate qua sotto in descrizione e ragazzi come sempre vi consiglio l'applicazione AOEND anche quella qua sotto in descrizione ehm sia che siate utenti di YouTube semplicemente sia che abbiate un vostro canale di YouTube perché è un'applicazione veramente figa gratuita da utenti vi manda tutte le notifiche stavolta tutte non come YouTube che fanno schifo queste questa applicazione veramente le notifiche ve le manda e da YouTuber potrete avere anche tante funzioni aggiuntive molto utili per gestire al meglio i vostri canali quindi ragazzi mi raccomando eh scaricatevela detto questo io vi saluto noi ci arriviamo come sempre al prossimo gameplay ciao belli